Commento al secondo capitolo dei Promessi Sposi, che mi piace cominciare citando una frase, secondo me chiave anche di questo capitolo, dal punto di vista almeno della morale che se ne può trarre, e che è una frase di Manzoni, non dei personaggi, insomma. È il Manzoni che si inserisce come commentatore di questa storia che sta narrando. I provocatori, i solverchiatori, tutti coloro che in qualche modo fanno torto altrui, sono rei non solo del male che commettono, ma del pervertimento ancora a cui portano gli animi degli offesi. Renzo era un giovane pacifico, alieno dal sangue, un giovane schietto e nemico di ogni insidia, ma in quei momenti il suo cuore batteva anche per l'omicidio. La sua mente non era occupata che a fantasticare un tradimento. Ecco, a me sembra una frase molto importante per capire qual è la nostra responsabilità nel mondo. Chi agisce creando sopprusi, provocando il male, diciamo così con un termine, io non credo al male come entità astratta, creando dei torti, oppure agendo non permettendo ad altri di esercitare i propri diritti, interferendo nella possibilità altrui di, come dire, di avere ciò che gli spetta. E questo spesso succede nella burocrazia, no? Chi agisce in questo modo si rende responsabile, rei, colpevole, responsabile di un male e di una colpa che non solo riguarda loro. Cioè io divento colpevole rispetto a qualcosa, ma in realtà aumento il male del mondo perché faccio sì che anche le persone che in realtà sono pure non vorrebbero fare del male, diventino anche loro in qualche modo più cattivi, più aggressivi e quindi potenzialmente più esposti ad agire in maniera non buona, diciamo così. Chi fa il male aumenta il male nel mondo, non solo del male che fa lui, ma anche del male che faranno altri che invece potenzialmente sono più disposti ad agire secondo le regole, quindi ad agire bene. Ecco, questa responsabilità che abbiamo nei confronti del male del mondo, oppure del cattivo funzionamento del mondo, del fatto che si agisca non rispettando le regole, ma che si agisca attraverso il soppruso, attraverso la prevaricazione degli altri, ecco, è una responsabilità grande che abbiamo, non solo nei confronti delle nostre azioni, ma anche nei confronti di quello che le nostre azioni possono provocare negli altri. E questa mi pare una bella riflessione di Manzoni, detta poi in due parole, ma così incisive, che quando le leggi, quando le ascolti, se ascolterai la lettura dei promessi sposi, ti rimangono impresse, insomma, sono dei mattoni, sono una cosa da prendere e da portare a casa, almeno come sintesi di questo capitolo. Bel capitolo, perché nell'economia del grande dramma, insomma, della grande avventura, della grande opera, diciamo così, anche, chiamiamola teatrale, no, che si rappresenta in questo romanzo, e questo capitolo serve a fare entrare in scena i personaggi principali di questo romanzo, diciamo che sono anche poi, che danno anche il titolo, no, Promessi sposi, insomma, e quindi in questo capitolo entrano in scena i Promessi sposi, che sono Renzo e Lucia. Questo capitolo riprende e, diciamo, chiarifica meglio il carattere, lo stampo di un personaggio che già abbiamo incontrato prima, ma che non è stato ancora ben definito, Don Abbondio. Quindi Don Abbondio dà l'inizio, dalla stura a questo capitolo. La prima parte di questo capitolo, che si divide grossolanamente in tre parti, insomma, riguarda, diciamo così, la notte tormentata di Don Abbondio dopo l'incontro con i bravi, e quindi prenderemo dopo in considerazione un po' la natura delle sue riflessioni in quella notte. La seconda parte riguarda l'ingresso in scena di Renzo, che va a stabilire le modalità di un qualcosa che è già stato concordato, anche nei particolari, con Don Abbondio. A dire sono pronto a sposarmi, oggi, come facciamo a sposarci? Insomma, dateci, dammi le ultime disposizioni. E qui vedremo come si svolgerà l'incontro tra i due. L'incontro che sarà tra due impazienze. L'impazienza di uno di vedere realizzato il suo sogno, che è a poche ore, a pochi minuti, insomma, no? Tutto è pronto e quindi non si tratta che di arrivare alla realizzazione di quello che si è preparato, insomma, con l'impulsività di un giovane, con la voglia, con il desiderio di un giovane, finalmente, insomma, no? Di sistemare in qualche modo la sua vita e anche il suo sogno d'amore. Quindi un'impazienza per realizzare quello che si è programmato. L'altra impazienza, invece, è quella di non fare quello che si è concordato, quindi di uscire da questa situazione. Bisogno di fare una cosa già stabilita, bisogno di fuggire da questa cosa stabilita e per fuggire bisogna trovare dei pretesti, insomma, no? Ovviamente di cercare di mettere in pratica quello che teoricamente si è pensato durante quella notte da parte di Don Abbondio. E quindi vedremo lo scontro tra queste due concezioni, tra queste due impazienze. Scontro fatto di argomenti e allora questi argomenti saranno da valutare perché sono argomenti che poi ritroviamo anche nella nostra quotidianità, quando siamo alle prese con la burocrazia, per esempio, no? E quindi gli argomenti che la burocrazia adotta per giustificare anche lei i suoi piccoli sopprusi nei confronti dei diritti degli individui. Il detto e il non detto che nascondono questi argomenti. e quindi anche la nostra capacità di analizzare questi argomenti e di rispondere a questi argomenti, cosa fare, no? E anche questo lo prenderemo in considerazione perché vedremo come Renzo coglierà piccoli segni di questi argomenti, non si lascerà convincere e quindi poi metterà alle strette, diciamo così, il persecutore Don Abbondio. Ritroviamo anche qui un altro personaggio, Perpetua, la quale poco dirà ma da questo poco si lascerà sfuggire quel poco che serve a Renzo per confermare i suoi sospetti, insomma, no? E per mettere effettivamente alle strette Don Abbondio in modo tale che il Don Abbondio, volente o nolente, si dovrà sfuggire a pronunciare con grande pena, con grande stento, con gran dolore, ma quel nome tanto temuto. Don Rodrigo lo dirà strascinando le consonanti, quindi con questo grande stento, con questa grande fatica che lo renderà spossato. Fatto questo, Don Abbondio, come si apre con una notte inquieta, Don Abbondio tornerà poi a mettersi a letto malato, perché lo stress, la fatica lo faranno effettivamente star male, tanto da chiudersi, da negarsi a chiunque, da mettersi a letto. È stato costretto anche lui a fare quello che non avrebbe voluto fare, ma in realtà il suo era un oscillare tra un pericolo e l'altro, non aveva una possibilità, così come l'aveva impostato, insomma, non aveva una possibilità di fuga, o faceva quello che gli diceva Don Rodrigo, cioè mantenere l'assoluto silenzio sul mandante, cosa che però non è riuscito a fare di fronte a un altro pericolo, la minazza che lui aveva colto, il Renzo che era deciso a tutto, insomma, anche aveva messo mano, aveva toccato il pugnale, insomma, e quindi lui l'aveva presa anche quella come una minazza sulla vita. Insomma, qualsiasi cosa facesse Don Abbondio per lui non poteva essere che la conferma di un pericolo che non era riuscito ad evitare. E quindi non essendo riuscito ad evitare questo pericolo, e per lui il pericolo è la minazza della sua tranquillità, insomma, la possibilità di morire ammazzato in qualche modo, non riesce a trovare altra fuga che mettersi a letto malato. E' un po' quello che succede anche nella nevrosi, quando non essendo capaci di una scelta tra due possibilità che tutte e due rappresentano un pericolo, non essendoci fuga rispetto a questo pericolo, si rifugia nella malattia, forse sperando nella comprensione, forse sperando, che so io, di prendere tempo, ma insomma la malattia è quello che ci resta, insomma, no? Si mette a letto e si nega, non ci sono per nessuno, dice a perpetua. La terza parte di questo capitolo invece è dedicata a Lucia, all'entrata in scena dell'altro personaggio, no? Personaggio a volte discusso un po' nella critica, sembra un po' una sempliciotta contadina così, no? Ma in realtà ci dà una dimensione quasi più serena, più pura, più virginale, ci dà l'idea di una figura capace di amare, capace di trovare senso comunque in una situazione, cioè di dare la risposta più equilibrata rispetto alla novità che si è creata, l'impossibilità in qualche modo di sposarsi nel giorno stabilito. E Manzoni ce la presenta come vediamo, insomma, leggeremo un po' le parole con cui ce la presenta, e quindi la dimensione del luogo, del paese, diciamo, Lucia in casa, preparata per il matrimonio, che riceve da Bettina l'informazione che Renzo le vuole parlare, e insomma, questo colloquio tra Lucia e Renzo, così come scorcio finale, troveremo anche un'altra figura importante nel romanzo, che è la madre di Lucia Agnese. Quindi, capitolo dedicato all'entrata in scena delle figure principali, Don Abbondio, Renzo, Perpetua, Lucia e Agnese. Sulla sfondo, il luogo, il paesino dove i fatti avvengono. Personaggi, anche quelli che riprendiamo, tipo Don Abbondio, che vengono ulteriormente caratterizzati, insomma, sono stati prima abbozzati, diciamo così come in un quadro, prima si fa l'abbozzo, e qui vengono ulteriormente precisati nei loro rispettivi caratteri, perché quello che ci interessa sono anche i caratteri, cioè quello che muove questi personaggi nelle loro azioni, nei loro comportamenti, e qui li ritroviamo, perché i personaggi manzoliani sono tutti molto ben caratterizzati, quello che fanno, come si comportano, poi esprime anche quello che pensano, come vedono il mondo in cui vivono, quello dei loro tempi, ovviamente, e quindi come le loro azioni sono indirizzate dal loro pensiero, dalla loro visione. E c'è una coerenza in questo, insomma, c'è questa capacità di delineare i personaggi in manzoli in modo che ci sia sempre coerenza con il loro comportamento e il loro pensiero, insomma. E quindi la caratterizzazione è forte, sono sempre personaggi ben delineati, ben determinati, non ambigui, per quanto è possibile, insomma, non essere ambigui o contradditori quando si vive nel mondo. E i loro drammi sono sempre dei drammi, diciamo, comprensibili, e proprio perché sono comprensibili ai loro tempi e poi li ritroviamo e li riconosciamo, e li viviamo spesso anche nei nostri tempi. Il capitolo è articolato così e vediamo un po'. Come comincia? Comincia con un intervento di Manzoni nella storia. È l'autore che fa il commento. La cosa anche lo capiamo, a parte che si capisce, ma insomma, il fatto che si racconta, dice il Manzoni, che il principe di Contè dormì profondamente la notte avanti la giornata di Racuroa, in cui c'è stata questa battaglia di Racuroa tra francesi e spagnoli. E lo capiamo soprattutto perché, se guardiamo le date, questa battaglia di Racuroa si è svolta nel 1643. Non si è ancora arrivati nella storia dei promessi ipodi a quell'epoca, quindi può essere un'epoca a cui fa riferimento Manzoni. Perché ci fa questo riferimento? Per dirsi che anche di fronte a un fatto importante che può mettere a rischio la vita, insomma, è una decisione importante. Quando si riesce a prendere una decisione, quando si è tutto stabilito, si può dormire tranquilli, perché tutto si è fatto. Insomma, il problema, la difficoltà, non sta nell'assumersi la responsabilità di una decisione presa con tutti i crismi della necessità e della cosa migliore da fare. Quando si è fatta la cosa migliore da fare, si ha la consapevolezza di averlo fatto, di aver preparato la battaglia nel modo migliore. A questo punto si può dormire, si può attendere lo svolgimento dei fatti. Insomma, non è che potevo fare altrimenti, no? Ma per Don Abbondio, invece, le cose non stanno così. Don Abbondio deve prendere una decisione e la decisione è quella di non sposare Renzo e Lucia, di perlomeno rimandare questo matrimonio, ma i bravi gli avevano detto non sa da fare, quindi di non fare. E lui è sconvolto per trovare il modo, conoscendo anche un po' il carattere irruente, impulsivo, giovanile, di Renzo, eccetera, e lui è sconvolto per trovare il modo di non fare questo matrimonio, quindi di seguire l'ordine, non il consiglio. era un consiglio mascherato da ordine di Don Abbondio di non fare questa cosa che era il suo dovere, la sua missione di prete, insomma, no? È come se a un chirurgo qualcuno gli ordinasse di non operare quando in questo intervento dovrebbe salvare la vita a una persona, insomma, no? A un avvocato di non difendere il suo cliente in un processo che magari prevede la pena di morte, che so io. Quindi, si tratta di venire meno al suo dovere, al suo dovere istituzionale, insomma, a quello di prete, che è quello di sposare queste due persone come avevano deciso, come avevano... Deve compiere questo ordine, deve dare esecuzione a questo ordine che gli avevano dato i bravi e che sapeva provenire da questo signor Don Rodrigo che lui temeva molto senza far capire, insomma, doveva trovare dei pretesti per non farlo ma senza far capire chi era il mandante perché ne andava della sua vita, insomma. E allora deve trovare delle ragioni, deve trovare un modo di comportamento, deve cercare una soluzione in qualche modo e questo senza pensare alla soluzione più ovvia, nel senso che la soluzione più ovvia sarebbe stata quella che lui diciamo, pensasse alla propria salvezza una volta che aveva fatto il suo dovere, una volta che li aveva sposati, a quel punto lui avrebbe dovuto cercare come proteggersi, avrebbe dovuto, secondo me, poterli sposare e poi in qualche modo sparire, farsi proteggere, insomma, ma la sua riflessione forse avrebbe dovuto, se fosse stata una persona responsabile, diciamo così, la sua riflessione sarebbe avuto quella di come proteggersi una volta compiuto il suo dovere, invece a questo lui non ci pensa proprio, lui pensa a come non compiere il proprio dovere, quindi a seguire alla lettera il dettato dei bravi per non avere grani, per non, queste grani per lui sono la paura che ne vada della sua vita, insomma, quindi capiamo che per Don Abbondio la cosa principale è salvare la pelle, non avere grane e in questo caso non salvare la pelle e quindi questa notte non può essere che tormentata per lui perché non è facile trovare una soluzione, lui è tra due fuochi, no? Tra il pericolo delle conseguenze che gli potrebbero derivare da Don Rodrigo del suo comportamento, nel momento in cui non eseguisse l'ordine e delle conseguenze della reazione di Renzo e lì bisognava inventare una scusa ma non sarebbe stata facile trovare questa scusa, no? Quindi notte molto tormentate per lui come sono sempre le notti anche nostre quando non sappiamo che decisione prendere, quando qualsiasi cosa possiamo fare potrebbe essere la cosa sbagliata, quando non c'è diciamo una differenza tra il buono e il cattivo di una scelta. Viene anche in aiuto la considerazione dal punto di vista della medicina, no? Quando la scelta è più difficile, mettiamo, se fare un intervento o meno, no? Quando un esame per esempio è più utile, quando le possibilità sono del 50% che un evento si verifichi o meno, no? A me serve un esame e l'esame è tanto più utile quanto più si avvicina al 50% la probabilità che questo esame sia positivo o negativo. Mettiamo che quanto che questo esame mi mostri un tumore al cervello o no. Se io so già al 90% dalla clinica che il soggetto ha o potrebbe avere un tumore al cervello, questo esame mi servirà relativamente, lo so già in qualche modo, ho molte probabilità, mi servirà solo a dimostrarlo, ma lo so già che è positivo, che sarà positivo. Viceversa, se sono di fronte a una patologia in cui al 99% so che questo esame sarà negativo, glielo farò fare soltanto magari per proteggermi, per avere la coscienza del tutto tranquilla, ma l'esame servirà a poco, mi dimostrerà quello che già so. Quando una cosa sarà utile, quando l'esame sarà più utile, quando la probabilità che il tumore ci sia o non ci sia è del 50% nei due sensi, no? Allora fare l'esame mi dirà sì, c'è, ma non potevo, non avevo elementi abbastanza sufficienti prima per poter dire che c'è oppure non c'è, ma c'era una buona probabilità che ci fosse e quindi quello sarà il momento in cui l'esame mi sarà più utile. Nel caso di Don Abbondio siamo nella situazione in cui qualsiasi cosa faccia rischia di avere una grana, una grana anche importante per lui e quindi si trova nella situazione che la decisione è molto difficile e una decisione difficile provoca, come diceva anche Kierkegaard, angoscia quando non c'è una strada preferita tra le due possibilità di una scelta e l'angoscia in questo caso provoca insonnia, irrequietezza, insomma, è una brutta notte che si trova ad affrontare Don Abbondio. Vediamo come la affronta. Don Abbondio invece non sapeva altro ancora se non che l'indomani sarebbe stato giorno di battaglia, quindi non l'aveva predisposto tutti i piani della battaglia eccetera non saprebbe come l'avrebbe potuta vincere insomma non aveva fatto tutto quel che era possibile fare per gestire questa battaglia quindi una gran parte della notte fu pesa in consulte angosciose e qui vedi Manzoni usa la parola angoscia quando non si sa che scelta fare angoscia non è solo paura è angoscia l'angoscia è un qualcosa di più della paura la paura è qualcosa che riguarda un pericolo presente che si vede e quale si sa come reagire o si può sapere perché lo si vede lo si rappresenta quindi c'è sempre una possibilità di fuga l'angoscia invece quando il pericolo è più che altro immaginario e non si trova una via di fuga quando qualsiasi cosa si faccia si rimane immersi e si rimane vittime di questo pericolo di questa minaccia pone le questioni della scelta non far caso dell'intimazione ribalda né delle minacce e fare il matrimonio era un partito che non volle neppure mettere in deliberazione cioè non vuole neanche considerare la possibilità di fare il suo dovere no quella era una cosa che era già scusa in partenza pericolo troppo grande allora tutte le altre cose di riserva insomma tutte le altre possibilità di riserva confidare a Renzo l'occorrente e cercare con lui qualche mezzo dio liberi non avrebbe potuto lui non si fidava di Renzo insomma quindi allearsi con Renzo contro questo nemico che si profilava in questo momento per tutti e due per uno una minazza peraltro era un nemico che gli rendeva impossibile il suo progetto di matrimonio neanche questo cioè le ipotesi di un uomo coraggioso insomma che richiedevano più coraggio le scarta in partenza e gli veniva in mente no la parola dei bravi no non si lascia scappare parola altrimenti aveva detto uno di quei bravi e a sentirsi rimborbar quel quella minaccia nella mente don Abbondio non che pensare a trasgradire una tallegge si pentiva anche di aver parlato ciarlato con Perpetua insomma aveva detto troppo anche a Perpetua che era stata furba ad estrargli queste parole di bocca fuggire altra ipotene ma dove e poi quanti impi quante grane quanti conti da rendere e ogni volta che scartava una possibilità il pover uomo si rivoltava del letto perché rimanevano sempre meno di possibilità no quello che per ogni verso gli pareva il meglio o se non c'è il meglio il men peggio fu di guadagnare tempo e allora la sua risoluzione è quella di guadagnare tempo ma per guadagnare tempo come fare rimandando Renzo per le lunghe prendiamo tempo cioè non facciamo il matrimonio adesso lo facciamo più avanti poi si rimanderà insomma troverà modo una soluzione in questo senso e quindi si ricorda che mancavano pochi giorni al tempo proibito per le nozze e se posso tenere a bada per questi pochi giorni quel ragazzone poi avrò due mesi di tempo di respiro e in quei due mesi possono succedere tante cose no tutta la notte metto in campo questi pensieri e si va un po' rassicurando anche se non gli paiono dei grandi argomenti però insomma gli danno un po' di soddisfazione si va rassicurando quel pensiero e cos'altro lo rassicura il fatto che la sua autorità può mettere in gioco la sua autorità la sua autorevolezza lui è il prete insomma è il curato la sua autorità gli avrebbe fatti parere di giusto peso gli avrebbe data la giusta importanza e poi insomma lui a 60 anni insomma un uomo esperto sa parlare diciamo così quindi ha questa vecchia esperienza e anche con questa esperienza la cultura che avrebbe vantaggio avrebbe avuto vantaggio rispetto all'ignoranza del contadino otto no che era Renzo giovanotto ignorante e allora si diceva no si parla anche tra sé in quei momenti e gli pensa all'amorosa no qui sposta sposta l'aggressività verso Renzo il quale era una situazione di diritto ma lo mette in colpa trasferisce il proprio senso di colpa su Renzo proietta no su Renzo la propria colpa lui pensa all'amorosa quello sciocchino quello stupido no cosa banale mentre io io penso alla pelle è molto più importante la mia paura insomma salvare me che non salvare il proposito di quel ragazzotto che pensa all'amorosa e inoltre sono più furbo questi sono i suoi argomenti argomenti che servono a giustificare la coscienza e a dargli un minimo di tranquillità per affrontarlo minimo di tranquillità figlio al caro poi quasi gli parla no se tu ti senti il bruciore addosso non so che dire ma io non voglio andarne di mezzo i deboli fanno sempre così io non voglio andare di mezzo vedetevela voi no non prendere parte lasciare che le cose ti sfiorino anche quando tu hai una responsabilità in questo caso la responsabilità gli viene dal suo ufficio no lui deve fare quello che il suo ufficio la sua carica gli impone Anzoni dice fermato così un poco l'anima una deliberazione a questo punto decide no decide che farà così prenderà tempo e cercherà con gli argomenti di convincere Renzo a rimandare questa data e la rimanda per una settimana poi a due mesi di tempo per pensarci in quei due mesi succedono tante cose e a questo punto quando riesce a trovare una soluzione almeno buona per lui riesce a chiudere occhio come il principe di cosa che aveva messo a posto tutto prima della battaglia dorme tranquillamente e lui nel suo piccolo una volta che dopo essersi rimanato rimanato sul letto quando ha trovato una piccola soluzione riesce a chiudere occhio però il sonno ne è turbato e allora si immagina nei sogni i bravi Don Rodrigo Renzo viottere di lupi fughe inseguimenti grida schioppettate tutte cose che gli mettono il terrore addosso quindi il sonno anche se chiude un po' occhio sarà un sonno disturbato qui ritorna al primo svegliarsi dopo una sciagura e in impaccio è un momento molto amaro la mente appena risentita corre alle idee abituali della vita tranquilla no antecedente ma il pensiero del nuovo stato di cose ne si affaccia subito sgarbatamente e il dispiacere ne è più vivo in quel paragone istantaneo assaporato dolorosamente quel momento Don Abbondio ricapitolò subito i suoi disegni della notte e si confermò in essi gli ordinò meglio s'alzò e stette aspettando Renzo con timore e a un tempo con impazienza questo argomento un pochino del risveglio lo riprende anche Furio Bordone bella commedia che aveva scritto le ultime lune l'ultima commedia che ha interpretato Marcello Mastraiani prima di morire se la vecchiaia è come come risvegliarsi da un bel sogno in cui ti trovavi libero insomma quando ti risvegli realizzi che sei vecchio e quindi che non hai più tempo davanti a te è come essere in una galera vita quella è la tua realtà la galera vita dalla quale non ti puoi tirar fuori mentre ti hai ritirato fuori dal sogno e quindi c'è questa dimensione tra lo svegliarsi nel sogno in cui ti si prospetta una libertà ti si prospetta un'altra modalità di vita e poi tra il sonno e la veglia non sai da che parte stare ancora e poi invece quando sei sveglio ti accorgi che sei immerso nella tua galera dalla quale non potrai più uscire non potrai più tornare indietro rivivere il tempo di libertà di possibilità che avevi prima e lui invece si sveglia da questo sogno come si svegliava nei giorni precedenti insomma si sveglia pensando alla realtà così come la viveva tutti i giorni tranquilla diciamo così e invece scopre che c'è questa nuova situazione questo pericolo che incombe e questo Renzo che sta venendo da lui a chiedere ragione insomma chiedere di essere sposato quel giorno e quindi gli si affaccia subito dice Manzoni il pensiero il pensiero di questo nuovo stato di cose si affaccia subito alla mente di Don Abbondio e il dispiacere ne è più vivo in quel paragone istantaneo insomma proprio questa rapidità con cui nel risveglio tranquillo come era di solito abituato ad avere si trova immerso in questa nuova realtà questo passaggio è molto rapido e quindi è ancora più spiacevole del solito e quindi a questo punto per togliersi questa spina di dosso è necessario accelerare i tempi insomma quando c'è un qualcosa quando c'è un dente che ti fa male hai bisogno di togliertelo il più presto possibile adesso si confrontano due situazioni che riguardano il tempo il tempo di Renzo che è fatto di far presto no? dobbiamo concludere oggi dobbiamo sposare ultime disposizioni è il tempo di Don Abbondio che è fatto invece di rimandare e cercare di prendere tempo come aveva stabilito dentro di sé durante la notte tormentata bisogna cercare il pretesto per convincerlo a rimandare a questo punto Manzoni ci presenta il personaggio di Renzo personaggio che ha la lieta furia di un uomo di vent'anni e che deve in quel giorno sposare quello che si ama Renzo insomma in qualche modo personaggio impulsivo personaggio però pieno di entusiasmo impulsivo perché non è molto portato a riflettere su quello che fa insomma sarebbe quasi più portato ad agire per via riflessa insomma qui Manzoni insomma ce lo descrive ce lo descrive nel suo lavoro lui faceva il tessitore Renzo tessitore però lavorava anche nel campo un bravo ragazzo aveva messo su una sua situazione economica non era brillante ma insomma poteva assicurare anche un minimo di benessere per quello che era la vita dei poveri di quel tempo no e quindi insomma da quando aveva diciamo aveva cominciato la sua relazione con Lucia era diventato ancora più risparmiatore aveva cercato di organizzare bene tutta la sua vita per sposarsi per accasarsi insomma una cosa tranquilla normale per la gente di quell'epoca no compare davanti a Don Abbondio in gran gala con penna di variocolore al cappello il suo pugnale dal manico bello con un'aria di festa insomma tutto baldanzoso e nello stesso tempo con un'aria di braveria di spavalderia come era naturale allora come era solito essere tra gli uomini più anche tra gli uomini più quieti insomma no quel giorno è un giorno particolare insomma lui è tutto allegro insomma serve anche essere un po' ribaldo e qui c'è questo incontro no Renzo così spavaldo insomma che arriva allora facciamo tutto pronto dai mettiamoci e trova Don Abbondio che invece si tira indietro comincia a dubitare comincia a essere strano misterioso è come è abituato a vederlo no e c'è questo scontro di due mondi diversi di due caratteri ma anche di due atteggiamenti per affrontare l'evento che diventano diversi allora Renzo comincia a chiedersi no e qua si entra un po' nella nella psicologia no e pensa no 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 no